Primeri, facciamo mettere dei peccolini per spiantire le teste, possiamo spiantire il teperone, mettiamo acceso, lo spiantiamo, lo spiantiamo, le carote, il teperone, mettiamo su, con l'oltre, per esempio, con il nostro corpo di città, per il nostro corpo di basilico. sempre che cos'è e via quattro pettolini ci stanno per spiantire il peperone ci sono rapa, il selo d'erba e il peperone mettiamo dell'acqua, acciaio e sale il peperone ci sono già iniziato a sacco il peperone ci sono già iniziato a raccogliere il peperone ci sono già iniziato a raccogliere il peperone grazie